Ben ritrovati dalla redazione dei Flones Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione a Roma tra Impruneta e Incisa Reggello, 4 km di coda per veicolo in avaria sulla carreggiata. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze e Impruneta per correre il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Val di Chiana. Sul logo dell'evento sono presenti il personale di autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico. Infipili all'altezza dell'uscita la stassigna coda provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Stessa situazione all'uscita San Mignato. Per il meteo rischio temporali forti venerdì 24 luglio con allerta gialla a Firenze. Scatterà le 6, si concluderà alle 20 e saranno interessati i corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico, in particolare l'EMA, il Mugnone e il Terzolle. Per la circolazione ferroviaria segnalato un guasto all'impianto di Firenze e Campo di Marte. I treni regionali potranno subire ritardo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!